E la sua prima raccolta di poesie non solo, la giovanissima Federica Nolasco ha presentato a Trani la sua città natale Dappertutto stare, edito dalla Secop Edizioni, un libro che per lei rappresenta una finestra verso il mondo. Il titolo Racconta già tutto, ha spiegato Federica al suo pubblico della biblioteca comunale Bovio. È un'altalena perché dappertutto è un luogo difficile da definire, mentre stare è così preciso. Non è un caso se ho preferito al verbo essere il verbo stare perché vuol dire abitare. Lo slancio vitale che cerco di proporre con questo titolo è riuscire a portare con sé in ogni posto in cui ci si trova tutti i viaggi che si sono percorsi. E non dimenticare mai tutto quello che si è vissuto dappertutto stare significa fermarsi a riflettere guardandosi dentro e non smettere mai di dialogare con se stessi. Io l'ho fatto attraverso la scrittura e il meglio cerco di proporlo in questo testo qui. Un libro che fa riflettere ha raccontato la poetessa e critico letterario Angela De Leo a cui sono state affidate le conclusioni dell'incontro. Si capovolgono totalmente i personali punti di vista sulla scrittura, la poesia, i sentimenti, le emozioni, le percezioni di sé e degli altri. Ci sono luoghi, ci sono persone e al centro del libro ci sono tre storie di anima e speranza in cui narro un po' tutto ciò che restituisce speranza in un mondo che a volte cerca quasi di togliercela tutta. E quindi provo a reinventare la bruttezza e a rendere la bellezza nel modo più semplice che conosco attraverso la scrittura e quindi poi c'è anche tanto amore. Amore è la tripartizione dell'amore, quindi l'amore proprio, l'amore condiviso con un'altra persona e quello percepito dagli altri. Federica Classe 2001 ha trovato nella poesia la forma per esprimere se stessa, le sue paure, le sue speranze, legge per crescere ed accrescere il numero delle sue avventure da quell'invito ai suoi coetanei. Io non faccio che leggere che purtroppo gli italiani, soprattutto i miei coetanei, hanno importanti difficoltà nella comprensione del testo. A me questo rammarica perché è di supporto sia per comprendere se stessi innanzitutto in primo luogo che per comprendere gli altri la bellezza del mondo. Non leggere significa perdersi la vita vissuta di altri e quindi impoverirsi in un certo senso di una potenziale ricchezza che potrebbe formarci veramente l'anima in modo molto più potente.